A soli 60 chilometri da Roma si produce il pecorino romano genuino DOP. Siamo a Poggio Nirteto per scoprire tutte le fasi di produzione. Iniziamo dagli ingredienti con il signor Massimo. Quali sono? Latte esclusivamente di pecora e caglio. La prima fase è quella della termizzazione. In che cosa consiste? La termizzazione serve esclusivamente per eliminare la carica batterica dal latte e tutto ciò che riguarda l'impurità. Ora il latte è pronto per formare la cagliata. Successivamente che cosa accade? Viene portato a 40 gradi, viene cagliato e dopo circa mezz'ora viene squagliato. È pronto per essere scagliato. Come si elimina il siero in eccesso? Usiamo delle presse fatte apposta per il pecorino romano. Viene messo sotto pressione per circa 20 minuti e da lì viene eliminato tutto il siero. La particolarità del pecorino romano è la salatura. Quante volte viene salato? Viene salato in cantina a temperature controllate per circa 5 mesi. In questi 5 mesi può prendere dai 4 ai 5 sali. Siamo arrivati alla fase più importante, quella dell'assaggio natura. Ma in quanto tempo avviene? Adesso è 5 mesi. Prima è un anno e c'è chi anche va avanti con 8 mesi. Il nostro pecorino romano genuino doppio è pronto. Non ci resta che grattugiarlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.